L'LG Valbelluna è una società di calcio del comune di Borgo Valbelluna nata nel 2021 e focalizzata interamente ai settori giovanili. Nata per il forte volere delle due società calcistiche Gemelle e Lentiai, presedute rispettivamente da Marco Limana e Corrado D'Alessasse, che sono stati divisionari nel convincere quattro dirigenti da Gemelle e quattro dirigenti Lentiai di formare questa società in modo autonomo per portare avanti il settore giovanile. La società è cresciuta molto, segue tutte le categorie giovanili, piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi, ed è passata da 80 ragazzi e ragazze nel 2021 ad oltre 160 nella stagione appena conclusa. Con circa 37 dirigenti e con circa 22-23 tecnici o aiuto tecnici, in totale la popolazione dell'LG Valbelluna si aggira ad oggi a circa 225 persone. Quello che è importante è di lavorare per il territorio, infatti il 78% di queste 225 persone sono residenti nel comune di Borgo Valbelluna. I giovani dell'LG si allenano e giocano nei campi di Trichiana, Longano e a breve anche nel nuovo campo in sintetico di Lentiai. Tutti gli allenatori, i primi allenatori hanno il patentino e poi ci sono degli aiuti allenatori che alcuni lo stanno facendo in questo periodo. Cerchiamo di prendere sempre comunque degli allenatori che siano patentati appunto per dare una certa importanza anche all'allenamento di questi ragazzi. Quest'anno è stata sottoscritta anche un'importante collaborazione con la società FC su Tirol che milita in serie B. Da poco è stato rinnovato anche il consiglio di amministrazione dell'LG Valbelluna. Noi vogliamo dare in linea con gli obiettivi a continuità a questa società, quindi è rimasto tutto il CDA, sempre con a capo l'immancabile Flavio Grigoletto.